Ci sono momenti in una vita da rockstar che definiscono chi sei laddove c'era il buio ora ci sei tu e sarà un viaggio pazzesco e sarà un viaggio pazzesco Ciao da Valeria Restate ancora un minuto con me per delle curiosità davvero particolari su alcuni attori Per esempio, sapevate che Bill Murray all'età di 20 anni è stato arrestato per aver tentato di introdurre negli Stati Uniti 9 kg di marijuana all'aeroporto di Chicago? Sì Ragione per cui fu cacciato dall'università dove stava studiando per diventare paramedico Invece il grande Steve Buscemi, che è un ex pompiere, l'11 settembre 2001 diede una mano ai suoi ex colleghi nelle prime ore dopo l'attacco alle Torri Gemelle però non volle né essere intervistato né essere fotografato Grandissimo Steve E sapevate queste curiosità? Per oggi è tutto, vi ricordo che siamo anche su Instagram e Facebook con tanti altri contenuti Trovate i link in descrizione Ciao al prossimo video